Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Salvo al Mondo. Nello scorso episodio principalmente credo fosse un tutorial, quindi la prima vera missione credo che la inizieremo oggi. Tra l'altro leggo una cosa bellissima, ovvero che questa missione ti dà 100 V-Bucks. Detto ciò, partiamo subito. Vediamo cosa bisogna fare. Ah, ok. Benvenuto al tuo episodio, ok. Ok. Vorrei solo capire. Ah, per modificare. Puoi fare squadra dopo aver stabilito il tuo scudo antitempesta. Ok. 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 Allora, allestisci lo scudo antitempesta. Una base operativa fissa nella battaglia contro la tempesta. Potenze difendi, ok. Difendi lo scudo antitempesta in una varietà di simulazioni e sfide. Ok. Ok. Vediamo cosa bisogna fare poi in-game. L'unica pecca di Salvo al Mondo è che è noto che ci mette veramente tantissimo a caricare. Però appunto è ancora una versione beta. Vediamo un po'. Ok. 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 Sì, stai dietro a me! Prendete il pace, Pop! No, prendete il tempo. È solo una città di monstri. Prendete il tempo. Prendete il tempo. Grazie per guidare a casa, Commander. Benvenuti a casa, tutti. Ora sei protettata da una scuola temporale, ma credo che ho capire questa piccola base in una cosa incredibile. Se possiamo protegere e protegere la scuola, la scuola può mantenere a tutti e a tutti che riscate sicuri dalla scuola. E' là l'inizio e i vostri strumenti vengono a giocare. Sei un stagionista talentoso, come Frank Lloyd Wright, o Bob. Allora, cominciamo! Vai, attivate la scuola scuola! Ok, allora... Ok... 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 Ah ok Ora aggiungo una porta Ok Questa è questa? Ah ok Questa è abbastanza Si sembra che potremmo usare alcune piscine Placione una piscina, una piscina, una piscina e una piscina Ok Allora Posizionare... ah ne manca una Ok Vorrei capire... ah qua Ok 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 Allora dove la devo tirare? Non ho visto Ah ok 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 La scuola è stata un po' flacca, vediamo se la scuola riuscita. Penso che è lì. Hai questo, comandante. Defendere la scuola di scuola! Scuola. Cam. Grazie a tutti. 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 20 secondi. No. 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 Allora, penso che le prime missioni saranno tutte per farti capire principalmente cosa devi fare, perché ho visto che tipo nella prima ti faceva capire un po' già le costruzioni, le trappole, come difendersi nella seconda, ovvero in questo episodio ci sta spiegando come creare, quindi come editare le varie costruzioni per difendere lo scudo di antitempesta, quindi mi sa che poi tra poco incomincerà a lasciarci un po' più, tra virgolette, liberi e lì sarà poi la vera storia, però onestamente devo dire che mi sta piacendo molto per il momento come modalità. Allora, apriamo le ricompense. Ok. Uh, mi ha sbloccato un piccone. Ho 100 V-Bucks, ah, anche dei personaggi. Ok. Oh, sono bellissime queste skin. Ok, quindi altro ho sbloccato. Ma doveva, quanta roba ho sbloccato? Ok. 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 Ok, ok, buona notizia, solo una piccola notte. Possiamo provare a non riuscire in la war room? Anche se la storm si chiama in e i nostri indicatori di riservi sono... ...glasciare in rosso. Che non è effettivamente energetico, ma non è che non importa perché abbiamo vendertecco a la nostra parte. Nessi sensori stanno prendendo un'attivale vendertecco di risultato in questa zona. Lead la way, comandante. Ok. Allora, se vuoi vedere... Ok. Il piccone è questo qua. Ok. 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 Ehi, un axe! Siamo... ...cocchiando qualcosa? Adios! Aspetta! Che sta succedendo? Non mi racconta cosa è in... ...so questo è quello che ho fatto! E' davvero, ti fa pensare! Ah, anche qua si può mettere supporto a un creatore. Allora, aspetta che me lo segno. Ok. Ok, perfetto ragazzi. Io terminerei qua questo episodio. Mi dispiace non aver parlato tanto in questo episodio, ma perché sono ancora alle prese col capire bene il gioco. Detto ciò, ci vediamo domani con il prossimo episodio. Buona serata a tutti. Ciao ciao! Ciao!